bella a tutti ragazzi sono Samu e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo su Fortnite e come vedete qua io ho già preso e mi hanno dato già i piccoli di fondazione facendo l'incarico e oggi praticamente faremo le missioni per sbloccare fondation metto il suo piccolo a me tra i preferiti allora qua praticamente scusate per la musica spettate che la tolgo se si sente un casino e mi fanno per il copyright a me non c'è il copyright per questa canzone la tolgo se si sente un casino allora devo fare questo per toccare fondazione poi questi ci sono questi allora visita monumento magnificente un avamposto dei sette e il santuario ok metto singolo ma troppo alto sta luna ma mi metto una skin tryharder anche se ninja è tryharder ma mi metto una skin da mettermi perchè vabbè ormai non ho fatto in tempo mi lascio spiderman 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 ho rotto il computer con l'urlo aiuto ho dato nel microfono c'è una linea rossa al coso del vocale la cosa di te della voce dele dell'altro dove registro ok fondation questo ce l'ha già fondation fondazione fondation allora praticamente dove dobbiamo andare di bello allora qui e ci dà anche la caverna ma dove prendiamo ecco anche vicino alla caverna così poi vado alla caverna anzi faccio una cosa prima vado alla caverna mi prendo il bunker e poi sono pronto per andare qui stai ok intanto vado alla caverna per chi non l'ha visto ecco qua come la caverna caverna wow è un po' leggendario come prima arma ci sta vuole uccidere il boss in qualche modo sono arrivato a 105 c'è qualcuno ecco appunto c'è qualcuno sono morto nooo nooo sono cambiati schimano spazio e me ne è bello quindi l'argomento io devo andare evidentemente la vicino con il modo della caverna vado alla caverna poi vado a quel posto così poi da faccio continuo a fare la missione perchè la missione si blocco fondation e fondation a me mi piace the rock del film di mazzato ho cercato di romper joy i piatti in giro i joystick ma vabbè ho storato il microfono mi si vaga la maschera spiderman con le orecchie da coniglio ora si è tolto il bug meno male perchè sennò poi hanno un casino allora andiamo sempre qui a court caverna e poi andiamo di buon qui super carichi oggi per fare gli incarichi di fondation però è tanti perchè sono le venti più praticamente le dieci le dieci precisa ok 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 vabbè c'è niente che giaccia la condition io ancora non ce l'ho storia sad story sad story sad story sad story ma perchè si bug a me solo a me si buggano le cose non so perchè non so perchè le cose si buggano solo a me ok qua ho già un pompa peccato per la partita di prima ma mi ha deciso fondation perchè lo chiamo fondation se non trovo lo studio sono morto si ho fatto la missione di fondazione non c'è stato di stare al sicuro ora da quanto da quanto da quante persone da quanto da quanto da quanto casino che c'è non sento neanche il rumore dello shield ok oh fin poco posso facciare la missione di fondation ci sta la missione di fondation guardia schifosa quanta vita viene ok no sono morto scappocciavo vado qua dentro no adesso non ci sono sicuro stanno facendo incavolare il boss questo è una cosa brutta perchè tanto poi l'arma me la frego io non c'è ma dov'è il boss ma dov'è il boss non c'è 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 ok allora aspetta capo di caverna foundation qui aggiuntare qui poi prima vado alla caverna ma questo è impossibile rompa rompa ti sei piaci o non c'è non c'è gli fps no è remainsato solamente i ping 1,2,3,4,5,6,7,8 Mi sta cadendo il microfono Porca di qua Questo microfono un giorno si rompe Un giorno sto microfono si rompe Cos'è mangiato 10 minuti? Tipo vola Non vedo ci sono 59 fps 60 fps Andiamo Sono riesco a fare Sbloccare fondazione Con generale nel prossimo video Ma credo che ci riesco Per favore dimmi che mi porti di là Ehi Non mi porti di là Che è bello Allora vado qui e prendo un'arma Ma poi vado lì e sconfingo tutto Andiamo a muovere Perché poi la è fuori safe Credo che possa farcela Ma non è sicura Ok perfetto Piccono tutti con il mio questo Con il mio questo cosa Che non mi ricordo come Si chiama Il piccone di foundation Vuole capire perché lo chiamo foundation O fondazione o the rock E' bagaggato tutto Ok ok Mannaggia Mannaggia No riesco Nella caverna Una volta che ho avuto nella caverna C'è sempre Gente Il boss Non me lo lascio rubare No guardia Eh si Ciao Buonanotte Scemi Di questi qua Che mi killano Che casino Che c'è Annaggia Raga Adesso non vado La caverna Basta Mi son rotto Il cabo Allora Vediamo un po' Qua Devo andare Qua Vado qua Poi mi Mi tolgo il trasporto In qualche modo Vado là E poi là E là E là Che ne sono Sono le 22 e 9 Ci sto Ovviamente il video Sarà stato pubblicato In un'altra ora Ho già da un quarto di video 14 minuti Di video Video password Video password Video password Allora vediamo Quale mi sembra fare Ho distrutto il joystick Foundation Allora Mi vado Vado qui Poi vado nella caverna Faccio con la jump Vado qui E poi vado qui Anzi Vado prima qui Ci arrivo Io vado qui E poi vado qui Ci riesco Ci riesco Ci riesco Ma Cosa Caspita Ah si La c'è Quello Sì Sì Il vettore 40 La sua Con la Delle cose Di John Johnny Lama Dove Caspita Ho Pingato Mi Scusate Mi hanno Scammato Mi hanno Scammato Ah qui Mannaggia Non mi hanno Scammato Cos'è sta cosa Un tronco baggato No Un tronco Un tronco Un tronco Un tronco Un tronco Strano Ok la missione Me l'ha data Lutto un pochino Yeah Il pompa Che bello Del mondo Beh anche Questo è fortissimo Ma devo cercare Di andare Al Sanctuary Cioè guardia C'è qualcuno Me lo sento Vabbè io rifto Adios Prima che mi sparano Prima che mi sparano Prima che mi sparano Prima Fermata Al Sanctuary Svello Rifaggio Ci sta chiudendo Porca zozza Non ce la faccio Oddio Guardo di questo DG per me Che sono un'arma Yeah Solamente il pompa Poi vado qui E ho fatto una missione Che bello La 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 Sto rischiando la vita Perché è della tempesta Livello 106 Che bello Ok Prendo delle armi E vado qui Giacchiavo pure i punchi Se riesco Mannaggia Perché trovo le stesse cose Non posso perdere Tanto tempo Ma perché mi dà il segno Che qualcuno è sicuro Se sono io Che mi sto curando Vorrei capire Vado qui Poi sblocco Foundation Finalmente Dopo due mesi Al momento Ho sbagliato Fulmine Mi raccomando Dopo devo fare una cosa Quando devo fare una cosa Già c'è solo un'arma Ce l'ho quasi fatta Non迫 Fulmine Fulmine Mi interessa adesso noi stiamo andando in safe se sto provando solamente con il naro certo non ho ucciso nessuno ma faccio sta missione sto qua la telecamera quello 107 chi sta livello 107 sono un'arma almeno sono full almeno sono full lo piace un avversario questo posso fare perché non lo devo killare ancora 60 fps perché se no la cavo come un cane poi devo sboccare anche il suo balletto ma questo lo faremo nel prossimo video guarda no ma quanto non ho preso i mitragliette aiuto il microfono il microfono state fermo ma dove sto andando sto arrivando a los safe siamo rimasti in 30 e non ho trovato nessun nemico prima ero scappato per fare le missioni perché è isolato il santuario oggi mi si è bugato annuncia ogni volta devo fare questo mouse il mio mouse è molto colorato ogni volta devo fare così quando si prende il computer perché se no si bugga il video oh finalmente sento gente così la puscio giù dal bus giù dal bus sento gente di là sono pronto a ucciderla eccola eccola cioè eccolo buongiorno buongiorno mi manca un carnage un carnage l'auto di l'auto blu c'è sto un'arma blu c'è la ok mi manca un'arma blu e ho tutto il luto blu praticamente ma dove vado a questo mi serve anche se poi avverto perchè devo fare la missione è copacciato con il cecchino se poi mi da lo zainetto anche che belluto adesso faccio la foto qua c'è gente eh sono sicuro quello che fanno con il cecchino è poi un po' pericoloso di morire perchè se uno ti fa in testa con lo strager rischio alla vita praticamente attenzione guarda dove sta io sto nemmeno quello si era buggato l'hmt della tv mi sono preso un infarto yeee eccolo la safe perchè le può fare sti incaridi che sono difficili anche da fare con il cecchino no ma dove sta questo nemico ecco ma dove sta questo nemico ecco no annancio ok ok ho fatto la missione rischio la vita ma vabbè ok adesso provo fondazione yeee tornando all'obbio adesso intanto ballo il flosso ok l'ho ballato poi non mi avete visto perchè non ho la webcam attivata attivata ok ok prrrm 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 si è impallato tutto? sbaglio ah no ok yeee fondazione e di fondation voglio sapendo la maschera adesso non è il momento oh eeeh oh mi manca poco poi blocco questo vediamo un po' di fare quello la nooo non fatti tempo prendimi la tipa e rifatto fondazione e ne vado guarda CERE ho stonato il microfono e già è pure uscita la linea rossa e se c'è la linea rossa vuol dire che ho urlato come un cane però così si vede tutto lo schienale che bello fondazione è poi dopo mi metto il mantello allora mi incarico su da fare le raccolte ok vado a pinnacoli pendenti pinnacoli pinnacoli fondation e con il tetano di spiderman ma poi l'azione è buono o cattivo? no è buono perché ha salvato jones ha salvato jones la cama faranno la skin di jonesina o sbaglio? jonesina parapuu il carpù da calcio sta qui ok ciao galactico io c'ho la skin di galactico ok andiamo bene camminiamo galactico non ci mettiamo tutta la giornata camminiamo andiamo ma si è perso? ma venga andiamo adesso commetto che non mi sta seguendo ok andiamo ma perché sta accovacciata così? tanta gente fa sentire galactico ma che fai? ok ok andiamo 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 a milano sono a 208 310 su 1.000 ma poi ma poi me ne restano mille ma ogni volta che ballo fa col ballo ogni volta che faccio il ballo vabbè adesso non fa non ha più voglia di ballare voglia di ballare andiamo cosa faccio la missione? cosa faccio la missione? cosa faccio la missione? non mi devo mai fidare perchè ci sono notizie ecco appunto foundation oh grazie ok ma dove sta vai? vieni da me andiamo galactico andiamo galactico ma salì? vabbè andiamo qui è sblocato? ah questo la sua copertura la sua copertura oh un clombo ok scusa se vuoi vedere una cosa per il video oh no ma 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 è un incretinito questo galactico ma perchè ti fermi? a posto lo sottotiro? dov'è? ok ok i 120 sono quasi arrivato i 120 sono quasi arrivato i 120 sono quasi arrivato ok ok dove si stavo zitto? stavo pensando alle missioni ok ho fatto la missione finalmente dopo l'anno dopo l'anno dei dinosauri c'era la tiglia un mezzo ci sta c'era la tiglia un mezzo ma perchè devo pescare che fossi mi scopriamo con la barca? vabbò è bello pescare o almeno per i miei pesci perchè manco ci sono perchè le candela pesca cioè le pesci ci sono ma le candela pesca io non le vedo dov'è? aia vabbè vabbè almeno mi faccio lo scudo e faccio la missione vabbè almeno mi faccio lo scudo e faccio la missione come tu ti incarichi completare? dove è andato quello? ce lo devono essere gli altri? eccolo uno quello di prima nooo mannaia quante costiamo in un video? ho dato 6 minuti ah la tipa l'ho presa ok allora vediamo un po' infitti d'anni l'avversario con dall'atto con fusili pesanti o mitraglietta completate in cariche di fondazione non c'è un po' 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 come ho preso questo mette preferiti c'è un'altra novità perché non mi dice che c'è una novità però credo che si è buggato che facciamoci l'ultima io non ho capito questo comunque vediamo una storia di funzioni non c'è un riguardo non posso Dopo questo chiudo il video Perché poi è tardi Dopo siamo andati da 39 minuti Quasi in video Ma il mantello Mannaggia me Questo è bagato tutto blu Allora guardo la caverna Ah qua devo andare Devo uccidere Gunna In qualche modo Comunque ragazzi Le intro Quello là dove ci scriviamo Non ci sarà Nel video per un po' Perché poi esce la scritta Mentre si va al video Poi dove si trova un altro Un altro metodo Voi mi potete consigliare Nei commenti Cosa posso fare Per mettere la mia intro Perché io la voglio mettere La mia intro Però È solamente È Solamente che non posso Perché sennò esce la scritta E aiutatemi voi per favore Che cosa ho fatto Gunnar 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 mi hanno regalato una misura non me l'ho visto il visore ma Gunnar è anche ma Gunnar scusate che fine ha fatto Gunnar? non ditemi che l'hanno ucciso no Gunnar è ancora vivo 100% se no mi arrabbio ma dove sta sto Gunnar? mi roba una funziona ancora però grazie a Dio guardano solamente le guardio io che fine ha fatto Gunnar? dimmelo che fine ha fatto? ma nante te le guardio io schifose vabbò ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto lasciate un like attivate la campanellina e ci vediamo al prossimo video ciao raga al prossimo video